Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD e tutto il centro-sinistra sta pensando sicuramente a mandare al Quirinale Prodi, prossimo Presidente della Repubblica, e lui dice Prodi, un nonno al Quirinale. C'è chi dice così? Bene, di questa espressione mi interessa solo la parola nonno, un nonno felice. Prima di andare in pensione a me piaceva fare il Premier, questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla Presidenza della Repubblica e non ci penso certo ora. Peraltro quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me ci sono ancora. E così Prodi allarga le braccia in un'espressione stupita, classica, ve lo potete immaginare, con la sua espressione, con la sua voce un po' particolare. Ma lui dice di non essere interessato alla Presidenza della Repubblica, lui pensa adesso i miei pensieri sono rivolti all'Europa, all'Iran, alla Libia e, attenzione, all'Emilia Romagna che va a votare perché nel centro-sinistra stanno pensando solo a quello. Non vanno in piazza, non fanno comizi, però pensano insistentemente che non può finire così. Non può finire così. E chissà come finirà tra pochi giorni il 26 e domenica 26 gennaio con la votazione in Emilia Romagna e non dimentichiamo anche in Calabria, perché molti se la dimenticano lì il centro-destra ha addirittura un vantaggio del 20% come in Umbria. In Calabria si dà per scontato la vincita del centro-destra, potrebbe finire un 2-0 per il centro-destra, Calabria e Emilia Romagna potrebbe finire un pareggio, Emilia Romagna al centro-sinistra, Calabria al centro-destra. Non ci sono altre soluzioni. O 2-0 per il centro-destra o 1-1, 2-0 per il centro-sinistra in questo caso sembrerebbe impossibile. Quindi gli unici due risultati possibili sono quelli. E chiedono a Prodi, ma come mai? Gli Stati Uniti si sono dimenticati di chiamare Roma con quello che stavano per fare con il generale Soleimani. Lui dice Prodi, beh Trump, che voglio sperare sapesse cosa stava facendo, al contrario dei suoi predecessori, non ha avvisato nemmeno la Nato. Dopo c'è stato anche questo sfregio a noi, a differenza di Francia e Germania. Il problema è che l'Italia ha perso il ritmo, la politica estera richiede continuità. Però, attenzione, non ha chiamato la Nato, però ha chiamato Francia e Germania. Ha chiamato la Francia che lui odia tanto, è il Presidente che lui ha detto delle certe paroline su Macron, che non le posso dire perché sono offensive, però lui tanto chiama la Francia. Diciamo che Prodi non va, non affonda sulle persone, nel senso non va con giudizi molto taglienti, è sempre sul vago ma in quel vago tac colpisce, vago ma tac. Per esempio, il giornalista gli chiede, ma Luigi Di Maio che si è fatto fotografare con le scarpe da tennis, la barba incolta in vacanza all'aeroporto di Madrid, mentre succedeva quello che succedeva, ma lei cosa ne pensa? Lui dice, beh, è stato sfortunato ad essere fotografato in un momento sbagliato, nessuno poteva prevedere cosa avrebbero fatto gli americani. Certo, se penso al Ministro degli Esteri russo, Lavrov che incontra Di Maio, mi immagino le difficoltà di quell'incontro. Ecco, questo è il colpo di Prodi, dice, ma è stato sfortunato e poi dice, immaginate quell'incontro, ma sta praticamente facendo capire le differenze tra i diversi ministri degli esteri. Dice una cosa importante Romano Prodi, fino a qualche tempo fa si inseguiva solo la novità, è giovane, è simpatico, è aggressivo, sbatte i pugni, è la novità del momento. Però adesso si sta cominciando a capire che, beh, la novità, attenzione, la novità senza l'esperienza si fa alla fine a Roma. Virginia Raggi, il vento del cambiamento, voi adesso vedrete che cosa farò a Roma e tutti hanno visto che cosa è successo a Roma. Quindi non basta la volontà, non basta la novità, ci vuole l'esperienza sulle spalle, senza l'esperienza. Un paese così importante come l'Italia, gestito da dilettanti allo sbaraglio, ma il mio dilettante allo sbaraglio non vuole essere offensivo, è una fotografia della realtà. Se voi mandate Di Maio, Virginia Raggi, Toninelli, La 30 e poi tutta una serie di personaggi, dalle cozze pelose all'alpinismo sull'Ilva, agli autobus che vanno a Popò e il condizionatore d'aria che quando è acceso fa salire il pil dell'Italia. Diciamo che se paragoniamo questi personaggi a Donald Trump, Donald Trump sembra un Einstein. Ecco, 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 no? Donald Trump è quello che è, ma paragonato a questi personaggi è un grandissimo scienziato. Quindi anche io in queste settimane sto pensando che forse è meglio avere un personaggio di quel tipo in meno e averne magari uno un po' fazioso, però una persona che in caso di necessità ha il physique du rôle. Nel senso, se io devo scegliere tra Luigi Di Maio, ministro degli esteri, e metterci Franceschini, ministro degli esteri, io scelgo Franceschini. Se devo scegliere tra Zingaretti e Di Maio, ministro degli esteri, scelgo Zingaretti. Tra Emma Bonino e Luigi Di Maio io metto ministro degli esteri e Emma Bonino. Cioè, anche se io non condivido tutte queste persone che ho nominato, compreso Di Maio, però comunque in situazioni critiche, quando tu ti devi presentare come ministro degli esteri un alto funzionario dello Stato, vai a parlare con il ministro degli esteri russo, francese degli Stati Uniti e non sai parlare inglese e non sai niente di niente, non sai neanche dove si trovano gli Stati, capite che gli altri se ne accorgono al primo impatto. Quindi è preferibile in quei ruoli chiave anche una persona che uno non gradisce politicamente, dell'area politica che non gradisce, però che ha 30 anni di esperienza, che una persona che dice, ah, la novità, sì, però la novità lo mandi a fare il ministro degli esteri. Capite che, almeno questo è il mio pensiero, può essere condivisibile o non condivisibile. Mi chiedono a Prodi se questo governo dura e lui dice, razionalmente posso dire di sì, nelle votazioni parlamentari continua a vincere, però nelle cose umane c'è sempre l'imprevisto, ci sono obiettivi vitali che dovrebbero essere più forti delle ragioni di frattura, se prevale l'interesse particolare può accadere la stessa cosa che successe a me con Bertinotti, il quale abbatté il governo e se stesso, no? Cioè sta dicendo che Bertinotti aveva fatto Karakiri, per far cadere te Prodi cado anch'io, no? E quindi qui si potrebbe, come dice Prodi, entrare nella sfera delle vendette personali, guarda, io piuttosto che farti un danno lo faccio anche a me stesso, no? Un po' si sta vedendo, si stanno delineando questi personaggi che, presi dall'odio verso l'altro, dice io faccio cadere il governo, così tu vai a casa, però vado a casa anch'io, capite, no? Prodi aggiunge, visto che litigano, servono programmi e non dogmatismi, esistono ben altri argomenti su cui dovrebbero ritrovarsi uniti. Questa alleanza è stata messa in piedi in grande velocità, mentre richiedeva tempo, come è accaduto in Germania e in Austria. Si può passare dall'odio all'amore solo se si entra in una fase di prospettiva su nuovi temi. L'economia deve essere il vero campo da gioco, prendiamo il costo del lavoro, attualmente quello italiano è grandemente inferiore rispetto a quello tedesco e francese, e possiamo dire che è meno lontano da quello cinese. Un tempo il nostro era 40 volte il costo orario del lavoro di Pechino. Ora 2,5-3 volte non siamo a costo pari, ma ci stiamo avvicinando e bisogna preparare il futuro. Sta facendo capire Romano Prodi che bisognerebbe alzare gli stipendi, bisognerebbe mettere quel pagamento minimo, quella paga oraria minima che sbandiera Di Maio e Zingaretti che lo facciano. Io sono d'accordo su un minimo dal quale non si può scendere per pagare gli italiani al lavoro. Fatelo! Piuttosto che fare le cretinate del reddito di cittadinanza, è il bonus di qui, è il bonus di là, ma fate uno stipendio minimo sotto il quale non si può contrattare nessuno! Nessuno! Mettete 9 euro all'ora, come avevano detto, 9 euro netti, non lordi, 9 euro netti si parlava allora. Fatelo! Fatelo al posto che fare la legge elettorale, perché lì si trovano subito d'accordo. Fate questo, come lo dice Prodi, che Prodi sempre ci gira intorno, però poi alla fine dice che siamo a livello della Cina, quasi. Gli italiani praticamente guadagnano quasi come i cinesi. E questo non è un complimento, ve lo assicuro. Mentre sull'Emilia Romagna dice io penso che Bonaccini vincerà. In ogni caso, le ricredute del voto dipenderanno piuttosto dai possibili nuovi equilibri dentro le forze di maggioranza e di opposizione. Ma gli equilibri nell'opposizione, se cade l'Emilia Romagna, non c'entrano niente, caro Romano. Ma bisogna vedere cosa succede nella maggioranza, non nell'opposizione, perché anche se stravince la Lega, non è che Salvini cancella il centrodestra per fare un'altra cosa. Quindi lasciamo perdere l'opposizione e concentriamoci che se cade l'Emilia Romagna il problema è nella maggioranza, non nell'opposizione. Poi dice che Salvini vuole liberare l'Emilia Romagna da cosa? Romano Prodi dice che l'Emilia Romagna è una terra libera e per di più qui ci sono redditi più elevati e maggior tasso di occupazione. Vogliamo parlare degli investimenti della Lamborghini, della Phillips Morris? I dati economici dell'Emilia sono migliori del resto del paese. E' in questa ragione che ci sarà la maggior concentrazione di big data in Italia. Due terzi dei computer del futuro sono destinati all'Emilia Romagna e il fatto che tanti vengano a curarsi nelle nostre strutture sanitarie sarà anche un merito di chi ha governato la regione e si riferisce ovviamente a Stefano Bonaccini. Poi attacca sempre Salvini e dice che Salvini vuole parlare di tutto tranne che del governo Emiliano, non gli conviene. Arriva la domanda sulle sardine, sulle sardine no, ma sulle sardine e il giornalista gli dice che c'è, ma scusi, ma dicono che dietro le sardine ci sia lei, Romano, Prodi, andrà in piazza con loro il 19. Lui dice no, perché non voglio danneggiarle, magari fossi stato in grado io di creare un movimento del genere. Poi il giornalista gli chiede, ma saranno determinanti per Stefano Bonaccini le sardine? E dice di sicuro hanno condizionato Salvini e penso che stiano convincendo la gente ad andare a votare. Che abbiano condizionato Salvini? Io personalmente non credo proprio. Che stiano convincendo la gente ad andare a votare? Sì. Bisogna vedere però quel convincere la gente ad andare a votare se sono quelli indecisi che poi vanno a votare per il centrosinistro o per il centrodestra. Perché le sardine scese in piazza comunque sono una spaccatura nel centrosinistra. Col centrodestra non hanno nulla a che vedere. È un movimento che nasce dalla sinistra perché la sinistra non va in piazza e gli elettori del PD sono andati in piazza da soli chiamandosi il sardine. E senza politici che parlano, si guardano in faccia col pesce ritagliato. Ecco, questo è indicativo del disagio che hanno gli elettori nella classe politica della sinistra. Questo però il caro Romano Prodi, Er Mortadella, non lo dice. Er Mortadella in maniera simpatica ovviamente non è offensiva. Ma Romano Prodi dice anche ma le sardine lasciatele nuotare in pace, per favore lasciateli stare. Lui è uno degli osannatori delle sardine ma lo fa in maniera intelligente perché Romano Prodi non è stupido, è una persona realmente intelligente. Lui sa perfettamente che quelli sono elettori scontenti che sono andati in piazza da soli. Loro si sono riuniti per la prima volta in piazza a Bologna per contrastare le piazze di Salvini perché la sinistra non si presentava in piazza. Dice ma ci va solo Salvini? Beh andiamo noi, facciamo volantinaggio e ci riuniamo. Quindi lui sa perfettamente che quelli sono gli elettori PD scontenti all'80%, poi ci sono anche un 20% del Movimento 5 Stelle. Quindi per forza che se li coccola perché sono i suoi elettori, sono stati i suoi elettori. Interviene anche Enrico Mentana sulla questione e dice però il Quirinale ora aspetta al centro-destra, quindi il direttore del TG, la 7, all'attacco del Partito Democratico e dice è come se avesse terminato il repertorio. Dov'è finita la sua anima? Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.